Si comincia a sentire l'effetto Pasqua sui contagi, sono 340 i positivi registrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dal report inviato dall'Aspenissena. 92 sono pazienti di Caltanissetta, 90 sono pazienti di Gela, 42 di San Cataldo e così suddivisi nei paesi della provincia. Mentre i contagi aumentano dal punto di vista dei nuovi positivi, però diminuiscono. I ricoveri in ospedale sono 39 a fronte dei 45 di ieri i ricoverati nel reparto di malattie infettive degli ospedali di Caltanissetta e di Gela. E intanto sono 605 i positivi a Caltanissetta in quarantena domiciliare, 7 sono ricoverati in malattie infettive, 879 i positivi in quarantena domiciliare a Gela, 13 ricoverati in malattie infettive. Sono in tutto 2889 i positivi in tutta la provincia e come si diceva 39 ricoverati in malattie infettive. Sono soltanto 4 i pazienti nisseni ricoverati in altri presidi ospedalieri. Chiusa ancora la terapia intensiva.